Siamo una scema Aspettati qui c'è Siamo una scema c'è Ciao a tutti broccoletti e benvenuti in un nuovissimo video Sembra una pazza perchè sto parlando così velocemente Ma vabbè Bene benvenuti in un nuovissimo video Sto facendo questo video solamente per dirvi Che sono ancora viva Non posso ammese lo so Non posso ammese perchè Ho appena finito di traslocare E in questo momento con gli scatoloni Svuotare i scatoloni E prima devo riempire i scatoloni Ora devo svuotare i scatoloni e quant'altro E poi in questi giorni dobbiamo anche completare la mia camera Perchè abbiamo buttato un sacco di roba dall'altra casa Perchè l'altra casa era molto più grande Ma vabbè Comunque Non solamente dirvi che sto bene Sono ancora viva Non sto per morire E basta Io vi voglio Vi voglio E vi vorrò sempre benissimo Anche per tutto questo segno che mi date Ma vabbè Comunque spero che mi perdoniate Per questo Lungo 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 Questa lunghissima attesa Spero che mi perdoniate E scusate se sto guardando un giro E quindi Noi ci vedremo con un prossimo video E comunque sto preparando Lo speciale 50 No c'è Lo speciale 40 iscritti Anche se non è che sia Un gran che Comunque è un Gacha Life È un Gacha Life Mini Movie Anzi sono indecisa Tra Gacha Life Mini Movie E Gacha Life Music Video Perché Non lo so Vabbè Comunque Ricordatevi Vi voglio sempre bene E Ciao Ciao